Tempo Reale, speciale elezioni. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Partiamo subito anche in questo giovedì 15 maggio con la nostra parte dedicata alla politica. Anche oggi due candidati ospiti, anche se di due comuni diversi. Iniziamo dando il buongiorno, Simona, al primo che ci ha raggiunto in studio, l'ultimo in ordine di tempo che sentiamo per quanto riguarda il comune di Sant'Arcangelo. Allora diamo il buongiorno a Daniela Polloni, candidato sindaco. Buongiorno a noi e a chi ci ascolta, naturalmente. Buongiorno e grazie di essere qui con noi a Polloni. La sua fama la precede in qualche modo. Questo è un peccato. È un peccato e una fortuna, perché quando si fa campagna elettorale, essere famoso è importante. Sì, ma la mia fama deriva soprattutto da quell'uscita del bambino Federico e via via. Io vorrei che mi avesse preceduto la fama, cioè il fatto che sono l'unico candidato di Sant'Arcangelo ad avere un programma che tende a risolvere i problemi occupazionali della nostra città, della mia città. Il mio programma consiste in circa dieci punti che per me sono fondamentali e soprattutto che possono essere praticati. Il primo è il taglio della riduzione degli oneri di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sdellimento delle procedure burocratiche. Quindi si parla della macchina comunale anche. Sì, dunque. A Sant'Arcangelo il settore trainante per la nostra economia è l'edilizia. È rimasto l'edilizia. Chiuse le fabbriche, ricordiamo l'Unicem, ricordiamo la Cartiera, ricordiamo la Fisi, cento posti di qua, cento dieci di là, altri cento di là, insomma l'unica cosa, l'unica realtà è rimasta l'edilizia. Purtroppo quelle fabbriche sono state chiuse e non c'è stato, c'è stata pochissima protesta. Quasi nulla. Bisogna andare a vedere il perché e il perché, ma ormai sono chiuse e non c'è niente da fare. Rimandiamo con i piedi per terra, il settore trainante e l'edilizia. È chiaro che non si può continuare a costruire. Sant'Arcangelo è stata cementificata in maniera selvaggia proprio soprattutto perché doveva offrire del territorio libero all'espansione di Rimini. Rimini diventando provincia vent'anni fa ha avuto bisogno di portare su gente. La gente dove la metti? Dove la metti? Che a Rimini non c'era più posto. Stretta fra il mare e la ferrovia non era più possibile costruire. Di conseguenza ha usato i terreni a nord, ha usato soprattutto Viserba, ha usato Sant'Arcangelo e ha usato Bellaria. Perché dico usato? È molto semplice perché tutti erano Rimini sotto la sinistra, sotto un'amministrazione di sinistra, Sant'Arcangelo l'amministrazione di sinistra e Bellaria era fino a sei anni fa un'amministrazione di sinistra. È chiaro che loro giocano tutti assieme e quindi Bellaria e Sant'Arcangelo non potevano dire di no. Di conseguenza è arrivata questa cementificazione selvaggia che ha completamente snaturato la nostra cittadina. Lei quindi dice a Colloni non più cementificazione selvaggia però... Ma, ma, ma... Demolizione e ricostruzione. Cioè... Quindi riqualificazione. Certamente. Sotto il profilo energetico, sotto il profilo ambientale perché bisogna costruire quello che non si è fatto fino adesso, negli ultimi 70 anni. C'è una parola chiave, che per me è la parola chiave, cioè costruire il bello. Il bello non è stato costruito. È stato costruito, diciamo, l'utile ma fra virgolette. Ma non è stato costruito il bello. Quindi, per chiunque abbia intenzione di demolire e ricostruire in classe energetica superiore, usando dei criteri, cioè parliamo anche di impatto ambientale, cioè ciò che si va a costruire di nuovo deve essere ben inserito nel territorio. Ecco, chi ha intenzione di fare questo? E, purtroppo, è bloccato perché magari dice comincio a costruire, comincio ad andare in comune a fare, come dire, a fare tutte le pratiche... E ci vogliono mezzi. E ci vogliono un sacco di soldi. E anche un sacco di soldi, esatto. È chiaro. E di tempo. E di tempo, soldi. Poi c'è anche il fatto snellimento delle procedure. Bisogna assolutamente snellire le procedure di costruzione. Questo qui, io ne ho parlato anche una settimana fa, glielo ho accennato ai libri professionisti di Sant'Arcangelo. Io vorrei snellire le procedure, fare un progetto di snellimento delle procedure. Lo voglio fare insieme a voi. Perché sono loro che ci lavorano. Loro sanno, loro sanno bene come presentare una nuova normativa. Quindi partire dal chilo... È chiaro che la parola furbizia deve stare fuori dalla porta. Si devono scrivere delle nuove normative in maniera intelligente. Bisogna usare l'intelligenza, non il sottoprodotto dell'intelligenza che è la furbizia. Apolloni, questo è il primo punto del suo programma. Poi le guardiamo un attimo insieme. Volevo chiederle una cosa. Sant'Arcangelo esce da un anno di commissariamento. Che è stato insomma al centro prima appunto della caduta, insomma ricordiamo la caduta politica del sindaco Morri della precedente giunta, un anno di commissariamento. C'è stato il bilancio approvato da poco, polemica anche su questo. Lei che cosa, come valuta questo anno in cui la politica un po' è stata messa da parte? Ah, è stata messa da parte. La politica seria, la politica vera, la politica per la città, per la città, è sempre stata messa da parte Sant'Arcangelo. Cosa vuole fare? Cosa voleva fare adesso? Cosa poteva fare il commissario di Nusso? Niente, prendere atto di quello che c'era. Tamponare qua, tamponare là, viva chiare. Ma bisogna fare un discorso completamente nuovo per il bilancio. E questo discorso è completamente nuovo, mi devo scusare i miei avversari politici, ma ce l'ho solo io, perché nel programma solo io parlo di tagli alle spese. Solo io parlo di tagli alle spese inutili. Quali sono le spese in breve? Prima, e io lo dico senza nessuna paura, anche per i miei detrattori ieri su Facebook, me ne hanno detto tutti colori. No, io il festival internazionale del teatro in piazza, che costa centinaia di migliaia di euro all'anno, e lascia sul territorio, non lascia niente, lascia delle macerie culturali. In 40 anni, culturalmente, il nostro teatro ai Sant'Arcangio lesi non ha dato niente. Il teatro Sant'Arcangio, che ripeto, costa centinaia di migliaia di euro all'anno. Se lei pensa, provi a pensare questo. Diciamo su una spesa che poi è superiore, ma mettiamo 300 mila euro all'anno. 300 mila euro all'anno per 40 anni sono 12 milioni di euro. 12 milioni di euro significa che se fossero stati spesi diversamente non avremmo nessun tipo di problema. Avremmo la scuola elementare nuova, avremmo l'asilo a Canonica, che lo aspettano lì come il pane. Avremmo quello, avremmo quello. Avremmo un sacco di cose. Cioè, sotto il profilo delle necessità primarie che servono ad un paese, non avremmo più problemi. Abbiamo un momento, il festival, io non è che per essere contro quel festival lì sia contro la cultura. Bisogna stare attenti, perché questa è la scusa che usano i miei avversari politici per dire Poloni, l'ignoratore, di qua, di là, lui non vuole la cultura. No, io la voglio la cultura, altro che se la voglio. Ma io voglio quella cultura che cammina con le sue gambe, che si regge in piedi da sola. E allora che tipo di cultura? Deve essere quel tipo di cultura che è completamente, totalmente diversa da quella cultura. Quindi il festival cancellarlo o ripensarlo diversamente? Ripensarlo, ma sia ben chiaro. Senza soldi pubblici? Ah, su questo non ci piove. Sant'Arcangelo, la città, metterà a disposizione il teatro super cinema, metterà a disposizione due piazze, ma niente di più. Ah no, chi viene a Sant'Arcangelo, chi vuole venire al festival, si mantiene con i soldi del botteghino. Non è mica un problema. Perché fino al 1940 a Sant'Arcangelo, dopo è stato bombardato il teatro che avevamo, è sparito da pubblico che era, chissà perché, come uno dei tanti misteri, è diventato privato. Quella è una cosa che non si è capita. A Sant'Arcangelo c'era il teatro, era sempre pieno di gente. Si manteneva con le sue risorse, con il botteghino, con i biglietti del botteghino. Perché? Perché da un tipo di... Facevano l'opera lirica, facevano il teatro, facevano i cori, facevano tutto. Facevano tutto quello che piace veramente alla gente. Quello che culturalmente, diciamo la verità, c'ha due maroni, così. Quindi a lei non piace questo festival? Ma io l'ho visto nascere questo festival. Io avevo 13 anni quando è stato fatto il primo festival. Il primo festival portavano i balletti. Allora, quest'anno il balletto della Repubblica Popolare d'Ungheria, la prima sera pieno di gente. Dopo c'erano le repliche. Allora ero convinto, c'è successo, terribile. Le altre sere andavano a prendere i bambini alle colonie, il Gia Marina, Bellaria, li portavano su per far vedere che c'era il pubblico, un fallimento totale. L'hanno riempito nuovamente la prima edizione, mi ricordo, era la prima serata e l'ultimo. Lo sai perché? L'ultimo era pieno così di gente, di tamburello. perché hanno portato Casadelli alla gente, gli hanno dato della musica romaniola, boom, totale. Ha capito? Perché? Perché non è mica una cultura di serie B, la nostra cultura di serie B. Ma non ci mancherebbe. No, no, perché magari qualcuno dice un portevaggio, un rettangue e via via. Ma scherziamo, no, quello assolutamente. Chiedo una cosa, però a chi le dice, immagino che siano tanti, ma il festival comunque gli ha fatto conoscere Sant'Arcangelo in giro per l'Italia e per il mondo. Che cosa risponde? No, 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 no. Questo non glielo lascio dire. Questo non glielo lascio dire. Guarda, mi fa venire anche caldo quando dice così. Ascolti bene. Io ho avuto un negozio al mare per circa 15 anni di fotografia e poi ho sempre lavorato al mare. Nel mio negozio di Sant'Arcangelo io avevo due fotografie della mia città. Avevo l'arco e l'arco, la rocca, bello così, no? E li tenevo davanti perché per me è un onore essere Sant'Arcangelo. Certo. ragazzi questo qui non me lo togliete, che sia mai entrata una persona, una che sia una e ne entrava una migliaia perché facevo il pottorfo quindi sai gli scattini di una volta il negozio veniva a vedere la gente, di più non compravano mai niente, però entrava la gente, ma uno che fosse una che diceva questo è il suo persino, questo è Sant'Arcangelo di Romagna, io gli faccio più promozioni della Prologo, mi credo, e via via uno che mi abbia detto uno, ah dove c'è il festival, non uno, un'altra cosa, io ho avuto anche occasione di vedere la mia parte di mondo, la mia parte di Europa, io sono molto portato per i rapporti personali, io con la gente parlo, non ho l'ora di parlare, uno, anche in questo caso, non uno che mi abbia detto, ah dove c'è il festival, attenzione, capita una volta sono sua madonna di Campiglia a fare le foto, vent'anni fa, c'era un fotografo con me, uno di un Veneto, e mi fa, ah dove c'era il festival, si gli dico io, ti ricordi, si lui si ricordava perché lui era uno di quegli sporcaccioni che nel 77 e 78 quando venne Sant'Arcangelo bivaccava nel centro del paese, faceva i suoi bisogni sulle porte, per questo qui si ricordava il festival di Sant'Arcangelo, l'unica persona che abbia mai conosciuto io che abbia detto che si sia ricordato del festival internazionale, il festival, dicono internazionale, non è vero, non lo è, dicono Praga, non è vero, perché io ho avuto occasione di abitare a Praga, prima della caduta del muro addirittura, di starci anche un mese, un altro mese, eccetera, eccetera, ed ero ospite di una famiglia dove il padre della ragazza che frequentavo io era l'unico scrittore, ero uno scrittore cecoslovacco, famosissimo in tutta l'Europa dell'Est, le sue apre vendate in Russia e dappertutto, tutta l'Europa aveva conosceva le sue opere, ma anche lì, in quel contesto lì, uno che mi abbia detto, uno, che mi abbia detto, ah, oltretutto la ragazza che frequentavo l'avevo portata anche a Sant'Arcangelo, proprio nel periodo del festival, sotto zero. Apolloni, siccome il tempo scorre, i temi sono danni, ci dica, ecco, ma voi mi fate parlare, no, ma a noi ci interessa sentirla, perché poi, insomma, le volevamo portare una questione noi, guardi, la questione ambientale, parliamo delle rive del Marecchia, dell'ex cartiera, visto che prima le ha citate, della Buzzi Unice, insomma, Sant'Arcangelo è anche nota per il suo valore dal punto di vista ambientale, insomma, è una bomboniera, l'avevamo definita, almeno il centro storico. Il centro storico? Scusi, no, ma lei, lei parla così, perché lei giustamente non è di Sant'Arcangelo, è come quelli che ieri cercavano di insultarmi su Facebook, perché lei non è Sant'Arcangelo, quindi non possiamo... Il centro storico è stato completamente e totalmente deturpato. Dovete sapere che il centro storico, a parte i condomini che ci hanno costruito in centro, nel centro storico, ci sono i condomini, a parte quello, dovete anche sapere che vent'anni fa cominciò a crollare il centro storico. Io conosco una persona che andava tutti i giorni in comune e diceva, si sente l'acqua che filtra, si sente l'acqua che filtra, per dieci anni, è stato sulle scale, niente. Non l'hanno ascoltato finché non è caduta la casa del centro storico, è caduta la casa. Quindi hanno fatto i lavori per forza, sono andati a rimediare i soldi, chissà dove, c'era allora la sindacchessa la Cristina Garattoni, hanno rimediato i soldi, hanno cominciato a rifare le fogne, a fare quello che andava fatto, altrimenti ci cade sotto gli occhi. Ma andiamo a vedere che tipo di pavimentazione hanno usato, hanno tolto l'asfalto giustamente. Il sasso, non hanno più usato il sasso del nostro fiume, che è bellissimo. Se voi, io lo so, se voi lo guardate, quando lo bagnate ha tante sfumature diverse, è stato usato un tipo di materiale che sembra, da quel che ho sentito dire, sembra che arrivi da una cava di, è materiale di scarto di una cava del nord Italia. Ha capito? Ci sono due colori, bianco e nero, fa schifo, la gente si fa completamente schifo. Il nostro centro storico è stato snaturato totalmente e completamente. Cosa ne pensa della ZTL, Apolloni? Allora, il vigile elettronico, cosa ne penso? Ne penso che c'è una certa necessità, ma ci sarebbe più necessità di un vigile in carne ed ossa che girasse per le strade di Sant'Arcangelo, com'era una volta. Quindi critico anche sull'Unione, in questo senso, anche gli altri candidati ci hanno detto che hanno portato via un po' di servizi, ad esempio i vigili. Ma com'è i vigili? Allora, fino agli anni 70, primi anni 80, i vigili di Sant'Arcangelo erano un terzo di quelli che ci sono adesso, ma garantivano tutti i giorni della settimana addirittura il servizio notturno. La notte giravano sempre i vigili, adesso girano i venerdì e il sabto. Ma prima tutti i giorni ed erano un terzo di quelli che sono adesso. Cioè a noi Sant'Arcangelo... ma poi a Sant'Arcangelo non c'è un solo vigile in centro, un solo in centro, che deve essere sempre la figura del vigile perché passa gente e deve chiedere informazioni e via via... No, non c'è. Non c'è un vigile su alla scalinata, non c'è un vigile in via Cesare Battisti, cioè un vigile, tenere un vigile in centro che faccia il giro, piasta, scalinata, via Cesare Battisti e parco, anche il parco, bisogna andare a vedere anche al parco, perché ogni tanto la gente non si comporta bene, io che ci passo, io ho due bambini piccoli, li porto, ogni tanto c'è qualcuno che non si comporta bene, quindi anche dare un'occhiata al parco, ma continuamente fare un giro, diciamo, ogni ora un giro. Non sarebbe affatto male. Apolloni, parlavamo delle ferite ambientali, no? Create dall'ex cartiera, diceva prima anche lei della Buzzi Unice, ma anche lì tanti Sant'Arcangelesi chiedono che sia trovata una soluzione in tempi rapidi. Lei a Apolloni che cosa... Allora, in tempi rapidi, prima di tutto bisogna fare i conti con la proprietà, la proprietà è sua, vediamo cosa dice la proprietà. Dobbiamo vedere, se visto il comune di Sant'Arcangeles dovrà fare a sua parte, se ci sono i soldi. Io penso, e lo dico perché non faccio castelli in aria, non faccio progetti, io dico che questo è un momento, ragazzi, in cui veramente nessuno sa, sì tutti fanno finta di fare questo, nessuno sa che pesci pigliare, perché non c'è una lira in cassa, non c'è un'idea forte, ci vuole un'idea forte, e poi bisogna fare i conti anche con i proprietari della Buzzi Unice. Naturalmente ascoltando anche i cittadini, poi le esigenze dei cittadini dell'uomo. Sull'ex cartiera? Ah, l'ex cartiera, guardi, l'ex cartiera, tutto, tutto, per quell'immondizia che è rimasta lì da 30-40 anni, non l'ho scoperta io, ma l'ho denunciata io tre anni fa, il Consiglio Comunale, l'ho fatta denunciare a un mio collega, a un mio ex collega, io sono andato a vedere, io ho fatto le fotografie, io ho fatto l'articolo sul giornale, ma la mozione l'ho fatta fare al mio ex collega, visto che in Consiglio Comunale, in quattro anni eravamo in sei, e lo dico senza paura di essere smentito, il caretto l'ho tirato io in quattro anni, sono quello che ha presentato più mozioni e più interrogazioni in Consiglio Comunale. Poi alla fine che mi abbiano fatto il gesto dell'ombrello, io l'ho fatto al lavatoio, ma loro me l'hanno fatto in un altro modo, cioè neanche un grassi, niente, e neanche una consultazione per dire, guarda Poloni, è caduto il sindaco, è caduto il sindaco, dai ci prepariamo per il prossimo, per la prossima, niente, 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 sotto zero. Scusate, ma perché è provato, è provato, voi potete andare a vedere che il caretto l'ho tirato io, quante volte ho preso la parola, anche a sproposito, diciamo, ma pur di vedere, di far vedere che c'era il PDL in Consiglio Comunale, sempre io, sempre io dovevo cavare le castagne dal fuoco. Poi alla fine, burdeo, niente un grazie. Ma non me ne frega niente, adesso corro da solo, sono libero, sono libero forte e sicuro, guarda. Diceva, dell'ex cartero l'ha portata... Allora, l'ex cartero l'ha portata io, ho fatto fare una mozione a Benvenuti, la mozione fa una bellissima figura sulla mozione che le ho presentato io, e va bene così, però è chiaro che non c'è fatto niente, perché ci vogliono un sacco di soldi per smaltire il tutto, allora bisognerà... va bene, oh, ci vogliono i soldi, allora si dovrà occupare anche la Regione, bisogna anche interessare la Regione, bisogna interessare il vaccino Marecchia, bisogna interessare un po' tutti, cioè non è solo Sant'Arcangelo che si deve accollare quella spesa lì, visto e considerato che in quegli anni lì hanno chiuso gli occhi tutti. E che il fiume è di tutti. Ma un'altra cosa del fiume non è solo il residuo, il fiume è sotto di otto metri. Io facevo il bagno nel Marecchia negli anni sessanta, settanta, primi anni. Adesso è sotto di otto metri, è stato portato via tante di quella iaia, e per me quello è un danno che purtroppo sarà fattito ad andare a vigliare. Apolloni, la questione dell'ospedale Franchini invece è un'altra cosa... L'ospedale Franchini c'è una sola cosa da fare, e ce l'ho io, ce l'ho io nel mio cosa, è la cosa più fattibile. È un'alleanza con gli altri comuni, bisogna fare un'alleanza con Bellaria, Verrucchio, Poggio Torriana e addirittura anche Savignano, perché gli abitanti di Savignano fanno riferimento a Cesena, ma Cesena, e ve lo dico io che ho la bottega Cesena, è depotenziata, stanno depotenziando l'ospedale di Cesena a favore di Forlì, per cui quelli di Savignano si dovranno andare a Forlì. Quindi bisogna fare un consorzio tra comuni, totale 60-70 mila abitanti, che d'estate raddoppiano se non triplicano. Ora, visto e considerato che l'ospedale di Rimini è stato fatto nel posto più sbagliato in assoluto, dove per arrivarci in tempi normali ci si mette almeno un'ora, pensate d'estate, capita un qualcosa d'estate, la sera, con quello che c'è ragazzi, è impossibile arrivarci. Quindi l'ospedale di Savignano non dico solo va difeso, perché cosa difendi? Quello che è diventato un cronicario, dove a parte la senologia, che quando saranno pronte le sale operatorie Rimini sarà tolta anche quella, ti tolgono solo un unghie incarnito, un bugno cieco? Cosa vuoi difendere? No, bisogna parlare di rilancio dell'ospedale. Questo è il discorso e lo possiamo fare solo se siamo spollegati con gli altri comuni che hanno la necessità di avere un ospedale a pochi chilometri di distanza. Ma secondo lei ci sono i margini, perché a livello regionale sembra quasi tutto deciso. Ma cosa? Guardi, io a volte voglio arrivare anche a forme di lotte estreme, io l'ho anche scritto, ho detto, ma io San Arcangelo passa la ferrovia di Emilia e passa anche l'autostrada con una forma di protesta come fanno da qualche parte, ma noi possiamo strozzare l'Italia se non ci danno l'ospedale. Ci occupiamo questo e quello. Ah, io parlo chiaro, guardi, io naturalmente agiremo in vie legali, poi oh, l'ospedale è vitale. Mio nonno cento anni fa viveva all'ospedale, io non ce l'ho. Fino agli anni settanta si facevano delle operazioni importanti, finito tutto, un cronicario. Perché? Lo sappiamo tutti, i soldi dovevano andare tutti all'ospedale di Rimini a quel bombardone inutile che hanno fatto, quello là si è affogato, Tonini, 80 milioni di euro, si è affogato, c'ha l'acqua di qui e cerca di fare in modo che tutte le risorse convoglino in quel obrobrio, in quel posto senza fondo che ha fatto che la secolica non sta l'acqua e la secolica di Rimini. Questo lo sappiamo tutti, ma sono di sinistra, questo è il problema, sono tutti di sinistra, non si mangiano fra loro. Quando Tonini viene in consiglio comunale a Sant'Arcanzio io quasi lo cacciai via, mentre i miei ex colleghi, finito l'intervento di Tonini, non vede uno loro di stare lì a dargli la mano, capito? Ma vogliamo parlare... Sì, abbiamo ancora quanto Andrea? Due minuti e mezzo, due. Due priorità, in sintesi, ce le dica Polloni che ci interessano? No, la priorità è il microcredito. Perché io voglio fare l'italio delle spese? Perché io voglio premiare quei giovani che hanno voglia di fare, di lavorare, che quando vanno a chiedere un prestito alla banca, gli rirono sulla faccia, li cacciano via. Quindi una forma di microcredito da parte del Comune a favore di quei giovani, di tutti quelli che hanno voglia di lavorare e che non si fanno mantenere. Ecco, perché la differenza fra noi di destra, e io sono l'unico di destra a Sant'Arcanzio, l'unico, gli altri non contano niente, gli altri sono dei derivati, dei traditori e via via. L'unico di destra sono io. Ecco, la differenza fra noi e la sinistra è che loro campano di sussidi pubblici. Noi vogliamo contribuire a creare i sussidi. Noi vogliamo alimentare le casse del Comune. non vogliamo togliere. Ecco. Microcredito. Microcredito. Un'altra. Sì, la cosa, questa è importantissima. Dice, lo dica. Sant'Arcanzio da qualche anno a questa parte ci sono creati almeno 30-40 negozi di abbigliamento. Quindi c'è un'offerta in questo settore che è vastissima e grandissima. Noi dobbiamo fare un brand che si può chiamare Sant'Arcanzio vende moda, Sant'Arcanzio propone moda e pubblicizzarlo a tutta la Romagna. Vorrei arrivare addirittura, visto e considerato che i russi che sbarcano a Rimini vanno tutti a San Marino, ad andarci a prendere anche quella fetta di russi che invece di spendere a San Marino li portiamo a Sant'Arcanzio. Perché Sant'Arcanzio, quei 30-40 piccoli negozi sono una forza che va sfruttata. Sono anche una forza, sono anche un'occasione per tutti gli altri tipi di attività commerciale. Capito? A Poloni restano una quindicina di secondi per un appello al voto. Un appello al voto. Dopo quello che ho detto, dopo il programma, leggete il mio volantino che vi sto portando a casa e io non vi dico votate per me. Fate un po' quello che vi pare. Fate un po' quello che vi pare. Andate a votare però. Ma se voi guardate il concreto, chi ha delle proposte per il lavoro, che è il problema primario di oggi come oggi, ce l'ho solo io. Solo ed esclusivamente io. Lavoro e taglio alle spese ai rami secchi. Ecco. E questa era la proposta, anche le proposte di Daniela Poloni per i fratelli e comunque anche gli altri candidati. È che la par condicio. Il dibattito dovrebbe essere fatto solo fra me e Novelli, che avremmo voluto il dibattito in piazza a Sant'Arcangelo, con tutti i cittadini a fare le domande. Quindi stasera eliminiamo gli altri tre. Chi è scappato via? Perché chi scappa poi? Con che coraggio si propone la fine. A Poloni dobbiamo salutare, l'abbiamo finito i nostri tempi. La ringraziamo davvero per essere stato con noi. Buona campagna elettorale. Grazie, grazie. Ci prendiamo una pausa adesso. Piccola pausa. Ciao. Tempo reale. Speciale elezioni.